L'Asla di Teramo mette in campo una massiccia azione di prevenzione contro il tumore al colon retto, inviati direttamente a casa dei cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni, già 6.267 kit completi per effettuare la ricerca di sangue occulto nelle feci. Uno screening che già nella prima settimana ha dato risultati straordinari con l'arrivo di oltre 600 campioni. Tutto questo anche grazie alla sinergia composta italiana e che affiancherà l'Asla di Teramo nell'iniziativa sperimentalmente per sei mesi. Il tumore del colon retto è la seconda causa di mortalità per tumore e si presta benissimo a quella che è una prevenzione. Perché? Perché ha una storia clinica lunga e ha una fase preclinica dove l'intervento curativo ha ottimi effetti. La prevenzione ha come finalità quella proprio di arrivare alla diagnosi precoce, addirittura nel colon retto ci permette di prevenire l'insorgenza del tumore. Questo perché nella grande maggioranza dei casi il tumore del colon retto insorge su quello che comunemente chiamiamo il polipo, che è una formazione benigna e quindi ci permette, andando a eliminare questo tipo di formazione, di prevenire addirittura la formazione del colon retto. Ma non solo, noi andiamo a fare diagnosi precoce per cui le forme precoci che rispondono molto bene al trattamento vengono in questo modo portate alla luce in fase asintomatica. Lo screening per diagnosticare precocemente il tumore al colon retto messo in campo dall'Asla di Teramo è solo il primo. A breve partiranno anche altre campagne di prevenzione e tutto questo nonostante la pandemia Covid continui a preoccupare e parecchio. La pandemia c'è, non scordiamoci, noi abbiamo gli ospedali oramai con 30 ricoverati, 5 in rianimazione, 19 stanno al bell'occhio, 115 positivi al giorno, la media è di 100 positivi al giorno, quindi la pandemia c'è. Non è che dobbiamo dire che la pandemia è scomparsa, la pandemia c'è, va affrontata e dobbiamo però salvaguardare anche tutte le altre situazioni salutari che ci sono. La gente non si ammala solo di virus, ci sono altre tante patologie e noi stiamo qui appunto per tutelare la salute del cittadino.